Eccoci e bentornati sul mio canale video serale incredibile dovete spaccarlo immediatamente con un bel mi piace ed iscrivetevi per non perdere tutte le prossime novità domani un video molto importante sul download della season 2 e poi mercoledì recap generale delle novità più importanti della nuova stagione vi ricordo come sempre iscrivetevi su tutti i miei social il nuovo canale offerte da ragazzi per arrivare a 200 iscritti offerta amante code dovrete tantissimi sconti giornalieri ma soprattutto quando ogni volta dovete comprare su a mezzo passate da uno dei link che trovate poi comprate quello che cercate così mi sopporterete ugualmente con l'affiliazione partiamo call of duty 2024 a quanto pare ragazzi avrà una sorta di campagna open world è arrivata la bomba proprio in queste ore dal noto insider appunto insider gaming andiamo a vedere subito l'articolo che è stato pubblicato nel pomeriggio perché ci sono delle cose che vi faranno vedere e venire veramente i brividi alle braccia alle dita ai capelli alle unghie a quello che lo volete voi quest'anno call of duty è destinata ad abbracciare una campagna open world nella guerra del golfo di black ops perché secondo appunto tutti i leaks più accreditati il nuovo code di treyarch ma adesso ne scopriremo di più se è veramente di treyarch avrà una campagna avventato nella guerra del golfo non sarà la prima volta che la serie vede una campagna open world tuttavia poiché il primo assaggio di come potrebbe essere una tale campagna è stato esplorato per la prima volta all'interno di modern warfare 3 potremo rivedere una sorta di open world mission avete visto ad esempio verdansk nella campagna di mv3 tuttavia le fonti hanno spiegato che a differenza di modern warfare 3 la campagna di golf war che vi ricordo ragazzi il nome provvisorio per etichettarlo come gioco a mentone alla guerra del golfo è stata costruita da zero piuttosto che utilizzare risorse di pezzi precedenti la cosa ragazzi non mi sorprende perché se sono veri i rumors di queste settimane e mesi il nuovo code 2024 sarà il primo code sviluppato nell'arco di quattro anni attualmente l'open world il mondo aperto del gioco vedrà il giocatore e la sua squadra navigare su una mappa simile a quella di far cry di qualsiasi cosa abbiamo visto prima dell'universo di call of duty i giocatori saranno in grado di utilizzare i veicoli per spostarsi oltre ad utilizzare un sistema di viaggio veloce per andare da un punto all'altro anche se la portata di quante missioni lineari ci saranno rimane da vedere le fonti hanno confermato che alcune missioni lineari saranno integrate nel gioco quindi avremo sia missioni open world dove ci potremo spostare con i trasporti o con il classico meccanismo dello spostamento veloce come abbiamo visto su assassin's creed come abbiamo visto su far cry su tantissimi altri giochi rimarranno anche alcune missioni le classiche chiamiamo missioni su binario che non te puoi muovere più di tante devi farle in un determinato modo la campagna a quanto pare sviluppata da raven software mentre il multiplayer e zombies saranno gestiti da tryarch vedrà il ritorno di alcuni personaggi di black ops tra cui adler che farà parte della nostra squadra ma non è finita qui sentite bene quest'altro approfondimento al di fuori di black ops golf war le fonti hanno anche rivelato che è probabile che la serie possa appoggiarsi a campagne più open world rispetto al passaggio quindi a binari quindi con missioni lineari call of duty 2025 nome in codice saturn che attualmente non ha uno sviluppatore leader assegnato è anche lanciato per avere una campagna open world con la sua mappa separata in diversi biomi luoghi cosa significa che dato che call of duty 2025 si vocifera essere il sequel diretto di black ops 2 al momento non sembrerebbe che abbia uno sviluppatore principale quindi non si sa se sarà la tryarch non si sa se sarà la sledgehammer games di certo non sarà l'infinity world perché l'infinity world starà lavorando sia proprio al proprio capitolo mentre il campo da gioco è molto in movimento a causa del suo sviluppo iniziale 20 mesi fino al lancio al momento della scrittura è stato detto che il passaggio della campagna dal mondo lineare a quello open world si baserebbe principalmente sulla razionalizzazione dello sviluppo rispetto a qualsiasi altra cosa ma non è chiaro se questo cambierà o meno con il rilascio call of duty black ops golf war attualmente previsto per l'uscita nell'ottobre 2024 sarà la sesta voce o meglio la sesto capitolo della serie di black ops quindi questa ragazzi è veramente una gran bella bomba serale che volevo riportarvi voglio sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate vi lascio ovviamente in descrizione dell'articolo se volete andare a vedere e approfondire ma vi ho riportato il 90% dei contenuti con tutti gli approfondimenti e altre cose che già sapevamo e che sappiamo anche di più però volevo riportarvi questo importante articolo riportato da Tom Anderson sul suo portale Insider Gaming fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video